Per iniziano i concerti del lunedì, sarà una grande programmazione quest'anno, partiremo dal 19 di giugno, quindi tra pochi giorni, con il primo grande concerto, sperando di ripetere l'iniziativa di The Voice Senior che è stata sui canali televisivi, con Mario Iudi e Claudio Morosi, e poi proseguiremo invece con altre band di grande qualità per tutta l'estate fino a concludere i primi di settembre. Novità, quest'anno avremo al Ferragosto invece un grande concerto della Tribute Band dei Queen, band riconosciuta ufficialmente da Londra, quindi ci attendiamo un grande successo anche per il Ferragosto. Dopo il successo avuto The Voice, come è tornare a cantare nella piazza della propria città? È proprio un onore, ho sempre sognato, essendo pesarese, da piccolo vedevo a Pesaro cosa succedeva, è una cosa che ho molto pensato, chissà se un giorno toccherà anche a me, è un grande piacere essere qui. C'ho otto brani, I've got it under my skin, My Way, Ladies and Trump e altre, sono otto, pezzi molto conosciuti. Siamo molto felici adesso che nella prima estate realmente di normalità, magari non climatica, ma insomma legata alle situazioni post pandemia, si possa tornare al meglio con il lunedì, che è sempre stato un po' il giorno di avvio della settimana turistica e dell'accoglienza per i gruppi, in particolar modo che vengono in città con i pullman, i gruppi organizzati, e farlo con il meglio della musica locale e nazionale. Un modo per creare il giusto clima, anche di festa, per un'estate che ci porta verso la capitale italiana 2024. A casa, perché Pesaro è la mia seconda casa, io ho studiato il Conservatorio Rossini, quindi sono cresciuto più qua che nella mia città che è Fano, quindi sono entusiasta, felice e appunto, felicissimo insomma. E cosa canterà? Ma sette, otto brani, quelli che ho presentato a The Voice Senior e anche altri del mio repertorio, che ne so, brani di un po' mezzo swing, un po' rock, Fausto Leali, belle sorprese, belle sorprese. E il suo seguito è aumentato dopo The Voice? Assolutamente sì, anche perché The Voice ha avuto uno share incredibile, il calcolo è tre puntate, 18 milioni di persone, quindi direi che abbiamo avuto, ci siamo un pochino allargati il perimetro delle amicizie, le persone che ci seguono. Direttore dell'orchestra, 35 musicisti che si esibiranno e aiuteranno i cantanti, insomma, nella realizzazione di questo evento. L'orchestra è la San Marino Concert Band, io faccio il maestro lì da una decina d'anni, il mio passato però è molto televisivo, ho lavorato molto nelle orchestre della televisione Canali 5, la RAI, con Demo Morselli, tutto il Costanzo Show, Buona Domenica, tante cose. Adesso da qualche anno faccio, mi occupo anche di questa grande orchestra e abbiamo tanti spettacoli da portare in giro, dove accompagniamo anche tanti cantanti, tra cui questa serata molto importante, alla quale io sono veramente onorato di partecipare, di prendere parte. Facciamo questo spettacolo e credo che sarà una cosa meravigliosa, gli arrangiamenti sono tutti originali, tutta la band suonerà dal vivo, 35 musicisti e quindi sarà una cosa proprio al vecchio stile.